Oh ragazzi 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 abbiamo una grande novità abbiamo anche la premiazione del miglior commento della settimana sempre nella stessa data, sempre sabato ho ricevuto un altro commento che mi è piaciuto tantissimo allora vedete che 5 mesi fa io contro tutti ha scritto un commento delirante e forviante e completamente senza senso sì, lui svilupperà una teoria secondo la quale è possibile copiare delle cose che tutti sanno cioè se io so che per andare in bicicletta bisogna montare sul cellino e spingere giù le gambe lo posso dire solo io e chiunque altro dice questa cosa, chiunque altro spiega la stessa cosa sta copiando bene, a questo punto arriva questo eroe, lo definirei Nick Sparco perché io non mi ero neanche attentato di rispondergli o di rispondergli ciao o considerarlo perché ho detto siamo a dei livelli talmente alti di demenza che è impossibile cazzo non si può parlare con gente così arriva lui che fa se tu scrivessi in italiano sarebbe meglio in questo modo potrebbero capire tutti, anche i colti notate la finezza di questo commento, è veramente una cosa da smerdare la gente per questo io assegno senza indugio a Nick Sparco il commento di miglior commento della settimana grandissimo, sappi che in questo momento hai tutta la mia stima ciao a tutti